ciao a tutti sono Mirko e tra le varie cose che faccio faccio anche veterinario mi occupo di medicina interna pronto soccorso e terapia intensiva in una clinica a Milano e mi sono segnato un po di cose che ho sentito prima che mi hanno dato anche mi daranno lo spunto anche per raccontarvi qualche cosa prima parlando con Simone mi ha detto se venivo qui a raccontare qualche barzelletta invece vi racconterò qualche aneddoto che sembrano delle barzellette in realtà sono delle cose che realmente succedono sul sul mio lavoro che mi lasciano sconcertato a volte come già prima qualcuno diceva gli animali non sono dei piccoli bambini o dei peluche sono animali e come come tali devono essere trattati dei cani e dei gatti molto spesso vediamo che noi vogliamo umanizzarli ma non funziona così perché il cane deve fare il cane il gatto deve fare il gatto prima c'era una tabella appesa che parlava del degli alimenti che non vengono dati che non devono essere dati agli animali perché sono potenzialmente tossici e questo un esempio di umanizzazione perché mi è capitato una volta che è arrivata la proprietaria dicendo è c'è il cane che non sta bene vomita e ma cosa è successo signora e non so dopo che abbiamo mangiato la frittata con le cipolle si è sentito un po' male ma abbiamo chi e io il cane come se fosse una cosa normale non dare la frittata con le cipolle già la frittata di per sé come proteine calorie non non va bene per per il cane ma soprattutto la cipolla che che è tossica è smontato tutto la cipolla che è tossica come i vari rimedi fai da te soprattutto la cosa che che noi veterinari non sopportiamo quando le persone leggono su internet cosa devono fare quindi arrivano già magari in clinica che hanno già la diagnosi sanno già loro quello che devono fare quindi cosa siete venuti a fare fate voi quello che dovete fare vi siete già informati e fatelo una volta mi è capitato un gatto che è arrivato che era praticamente in coma e la signora mi ha pensato bene visto che l'aveva visto un pochino giusto quando lei aveva la febbre le ha dato la tachipirina faracetamolo è tossico per i gatti quindi questi rimedi fai da te no perché uno pensa che sia un bambino il bambino c'ha la febbre allora gli do gli do la tachipirina no non funziona non funziona esattamente così quello che vi vorrei raccontare adesso è un pochino l'approccio che si deve avere magari per aiutare il veterinario nel nei vari interventi che poi dovrà effettuare sui sui vostri animali quindi quelle costanti diciamo che si possono valutare già da casa e magari si possono comunicare telefonicamente al veterinario in maniera tale che possa poi intervenire e sapere magari già cosa sta accadendo insomma le cose basilari quindi si possono valutare da casa ad esempio la frequenza respiratoria come facciamo a valutare la frequenza respiratoria metodo molto semplice magari ci si bagna il dorso della mano lo si mette davanti al naso del cano del gatto e si conta in 60 secondi quanti atti respiratori l'animale fa devono essere non superiori ai 20 30 massimo 30 diciamo poi dipende anche dalla dalla taglia e da se l'animale cucciolo o meno e oltre a questo si può valutare anche il tipo di respiro una respirazione normale in un cane adesso magari se vedete un cane tranquillo non questi che stanno correndo si vede benissimo che la respirazione si dice toraco addominale nel senso che si vede muovere sia il torace che l'addome se un cane respira con la bocca aperta e si vede che si muove solo l'addome probabilmente c'è qualcosa che non va questa è una frequenza che può essere valutata un'altra frequenza che possiamo valutare è la frequenza cardiaca anche qua è abbastanza semplice da misurare sostanzialmente se prendete la zampa a sinistra del vostro animale la sollevate in corrispondenza del gomito si trova il cuore no quindi appoggiamo la mano anche quasi conta i 60 secondi quanti quanti battiti ci sono per per minuto e quindi anche qua si possono fare delle valutazioni e dipende anche qua in base al al tipo di animale quindi se un animale di taglia piccola avrà una frequenza sui 100 120 se un cucciolo anche di più se un animale di grossa taglia e anziano deve avere comunque la frequenza relativamente bassa quindi un cane di grossa taglia avrà un cane gigante ha anche la frequenza di 60 può avere quindi questa è un'altra cosa che possiamo valutare un'altra un'altra frequenza un'altra costante che possiamo valutare sono il colore delle mucose colore delle mucose anche qua è semplice si può vedere la congiuntiva quindi se tirate giù l'occhiettino del vostro animale vedete che colore è deve essere un colore rosa oppure si può sollevare il labbro vedete il colore della della gengiva colore deve essere rosa delle variazioni di questo colore possono esserci con con diverse tipi di problemi ovviamente se le mucose sono si dice cianotiche oscure vuol dire che c'è probabilmente un problema di circolo che magari deriva da un problema respiratorio perché c'è una una difficoltà di scambi gassosi oppure se le mucose sono troppo pallide se le mucose sono si dice porcellana bianche evidentemente il cane ha una forte anemia e ci può essere una un'emorragia in corso quindi questo è un parametro molto importante da valutare contemporaneamente si valuta il tempo di ritorno capillare che sarebbe sollevando sempre la la labbro si fa pressione col dito sulla sulla gengiva e si rilascia e si vede in quanto tempo la la mucosa ritorna del colore normale questo tempo deve essere inferiore ai due secondi se è superiore a due secondi vuol dire che c'è un problema di circolo e quindi queste informazioni possono essere molto molto importanti per il veterinario già a saper saperle prima che l'animale arrivi può agevolare il nostro il nostro lavoro un altro parametro che si può valutare è la temperatura se avete un termometro a casa si infila si infila lì e la temperatura deve essere tra 38 e 39 nei cuccioli può anche essere superiore a 39 se l'animale è una temperatura molto alta già voi da casa potete intervenire bagnando le estremità con o con l'acqua o con con dell'alcol se sentite che il cane comunque a temperatura molto alta ovviamente prima di portarlo in clinica voi potete anche mettere dei ghiaccini a livello del piatto delle cosce o sotto le ascelle questo può aiutare sicuramente ad abbassare la temperatura e visto che sta arrivando il periodo una una cosa molto frequente che succede si chiama colpo di calore che appunto sono magari animali molossi o bulldog animali che già fanno fatica fanno fatica a respirare per per anatomia per conformazione fanno fatica a respirare perché sappiamo che i cani non sudando il loro mezzo per contrastare il calore corporeo è la respirazione se un animale già di suo anatomicamente fa fatica a respirare se lo si porta fuori a fa la passeggiata con 40 gradi probabilmente lì si scatena questo colpo di calore quindi la prima cosa da fare è buttare il cane dentro una vasca anche col ghiaccio fredda e cercare di abbassare la temperatura perché quella lì è la cosa primaria da fare ovviamente il consiglio è quello di portare fuori i cani nel dimmi sì il consiglio quello di portare fuori i cani nelle nelle ore più fresche io vedo molto spesso le signore con il chihuahuino tipo quello lì che vanno fuori con 40 gradi 40 gradi che sono quelli che percepiamo noi dall'alto pensate sul cemento sull'asfalto quel povero animale lì cosa cosa patisce dimmi anche tutti i cani possono essere soggetti ovviamente i molossi sono più predisposti perché hanno difficoltà respiratorie quindi non riescono a scambiare la temperatura cambiare la propria temperatura corporea anche negati può succedere negati un po più raro perché i gatti sono più più furbi diciamo mi è successo ah sì 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 no certo certamente infatti quello che stavo dicendo è mi è capitato appunto o che te lo portano che lo lasciano anche in macchina un paio d'ore oppure mi era capitato un gatto che era rimasto bloccato sul sul tetto nel sottotetto e non riusciva più a scendere poi dove non lo trovavano più ed è rimasto lì se è cotto poi per fortuna se l'abbiamo l'abbiamo salvato ecco quindi queste ci sono delle precauzioni che dobbiamo assumere ovviamente perché per essere per stare attenti l'altra cosa frequente in questo periodo purtroppo voi persone non potete fare molto nel senso che lì ci vuole proprio l'intervento il veterinario sono i forasacchi questo periodo il periodo delle spighe se ne trovano di ogni ovviamente anche qua bisogna stare un attimino attenti se uno c'ha un cocker l'altro giorno mi è capitato un cocker è arrivato al signore è pieno di spighe ma dove l'ha portata e hanno tagliato l'erba l'ho portato l'ho portato lì magari evitiamo di portarlo dove hanno tagliato l'erba al cocker con quelle orecchie lì è un ricettacolo di spighe e tra l'altro le spighe più frequenti si ritrovano nelle orecchie però possono anche ritrovarsi all'interno all'interno del naso quindi la sintomatologia che si riscontra se all'interno dell'orecchio il cane dopo la passeggiata inizia a grattarsi e grattarsi e grattarsi e scuota la testa e scuota la testa allora lì al 99% c'ha una spiga quindi la cosa migliore da fare è portarlo subito perché mi è capitato che arrivassero dei cani dopo una due settimane che il cane soffriva così e il padrono pensava che magari c'è un po' di mal d'orecchio i soliti pensieri quindi più la situazione si porta per le lunghe poi dopo è anche più difficile intervenire o ci possono anche essere dei danni a lungo termine che non possono che non sono più reversibili e quindi si causano delle otiti delle insomma delle problematiche e poi anche di difficile intervento idem per le spighe nel nel naso anche qua il cane inizia a starnutire a starnutire a starnutire e al proprietario finalmente si decide di portarlo quando inizia uscire il sangue dal naso allora lì si spaventa vede il sangue allora forse capisce che il cane deve essere deve essere portato l'altra cosa che adesso arriverà al periodo sono le le zecche e mi è capitato una una signora che mi ha detto il mio cane il mio cane è pieno di zecche vabbè signora lo porti arriva fa vedere sono tutte sotto la pancia zecche sotto la pancia io non le ho mai viste tira su faccio signora quelli sono i capezzoli ah ma è un maschio ma il maschio c'è capezzoli sì suo marito non ce li ha i capezzoli non so ma succedono veramente sono ogni volta si vedono queste queste cose che si fanno ridere però in alcuni casi no che a me viene da piangere che ci sono queste persone che hanno degli animali e anche qui l'animale deve essere scelto in base a diverse caratteristiche sia del nucleo familiare sia purtroppo anche economiche perché l'animale è un bene di lusso sì 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 quando c'è un inferno affestazione massiva dal zecche si può combinare sia la pipetta che collare metterli tutti e due e questo da una protezione maggiore comunque ritornando al discorso delle zecche se il vostro cane ha una zecca la potete benissimo togliere voi ci sono un sacco di anche lì su internet usare l'acqua ossigenata e l'olio sono delle cavolate anzi si rischia che il problema della zecca qual è sostanzialmente la zecca fa si dice il passo di sangue no quindi succhia il sangue dall'animale si gonfia e cosa succede quando si spaventa si stressò che fa il cosiddetto rigurgito rigurgitando il sangue il pasto che ha effettuato rilascia anche i parassiti che ha al suo interno quindi sostanzialmente la cosa che non bisogna far accadere che la zecca rigurgiti quindi perché si stressi quindi se li mettiamo l'acossigenata probabilmente si stresserà e farà il rigurgito io quello che facciamo noi in clinica è prendere banalmente una pinza e staccarla se rimane dentro la testa non succede nulla perché nella testa non ci sono i parassiti i parassiti sono nel corpo ok quindi con un movimento insomma abbastanza freddo diciamo toglierla abbastanza sicuro la togliamo e anche se la testa rimane dentro poi si staccherà da sola non è un problema e la trasmissione dei parassiti da parte delle zecca avviene in 48 ore per cui se il cane ha appena preso la zecca e le la si toglie non succede nulla perché tutti quanti si però è pieno di zecche adesso avrà un sacco di malattie no ci vogliono 48 ore almeno prima che la zecca trasmetta le malattie al vostro animale e l'altra questione che mi ero segnato prima ah sì della sterilizzazione che stavo sentendo prima che la sterilizzazione è consigliata sì è consigliata anche a livello medico perché se un vostro animale non avete intenzione di farlo riprodurre il consiglio è quello di sterilizzarlo perché con la sterilizzazione oltre a farle evitare degli stress perché ogni volta che l'animale va in calore si stressa e non poco quindi lo stress come sapete può essere veicolo di altre poi patologie che si possono instaurare ma anche per prevenire delle patologie a livello a livello uterino ad esempio quella più classica è la piometra e anche lì poi ritornando al discorso dei costi perché purtroppo il nostro lavoro difficile perché oltre alla difficoltà del lavoro in sé che gli animali non parlano e bisogna capire cosa bisogna fare e anche la difficoltà economica che spesso i proprietari hanno io ad esempio lavoro in una struttura dove non sono io il proprietario quindi comunque tutti i prezzi costi non dipendono da me quindi devo far pagare quello che bisogna far pagare molto spesso ci sono persone che prendono un sacco di animali e magari non riescono a sostentare a loro stessi però per avere l'allegria la felicità si prendono animali però senza pensare che comunque l'animale potenzialmente ha un costo perché se ti va bene ok magari devi solo fare le vaccinazioni e va bene non spendi molto ma se l'animale si ammala e sta male cosa fai devi curarlo e per curarlo devi spendere soldi perché non esiste la mutua ok in veterinario non esiste la mutua quindi è tutto privatizzato e quindi i costi sono sono quelli che sono e ad esempio facendo un esempio proprio economico numerico la piometra se un animale si ammala di piometra perché tu non hai voluto sterilizzarlo non hai voluto spendere 120 euro di sterilizzazione ne devi spendere quasi mille per per l'operazione per per tutto sperando che l'animale si salve perché poi non è detto che l'animale si salve ok quindi questi qua sono dei piccoli aneddoti dei piccoli consigli che che voglio dare per concludere volevo parlare di un altro argomento sempre relativo agli animali perché faccio anche il consigliere comunale a ro per il movimento 5 stelle e parlando di animali adesso stiamo proporrò in consiglio uno studio a livello dei nostri parchi per il ripopolamento dei chirotteri quindi dei pipistrelli questo cosa si stacca sempre e quindi proporò questo studio per il ripopolamento dei pipistrelli e l'installazione delle bat box perché come come sapete gli pipistelli sono dei grandi divoratori di insetti particolare le zanzare adesso fortunatamente zanzare non ce ne sono ancora molte però appena si stabilizzerà un attimo il clima arriveranno a jusa perché con tutta questa pioggia avranno deposto un sacco di uova quindi ne arriveranno veramente tante e le disinfestazioni non aiutano molto con l'aggiunta dei pipistrelli probabilmente si possono si possono calmierare queste queste situazioni molto pesanti quindi porterò avanti questa questa cosa nel mio comune e spero che anche gli altri comuni facciano ecco va bene proveremo e vediamo comunque ok grazie dimmi sì ci sono un sacco di farmaci allora i farmaci hanno i corrispettivi veterinari di solito quindi per dire l'augumentin che è il farmaco che prendiamo noi l'antibiotica vediamo noi nel cane c'è il clavobai ci sono diverse cose che si possono utilizzare noi veterinari però siamo costretti a prescrivere il prodotto veterinario questo cosa comporta il prodotto veterinario pur essendo la stessa identica molecola costa tre quattro volte di più del prodotto umano l'unica cosa che noi possiamo fare che ci sono dei farmaci ad uso umano che non esistono i veterinari allora in quel caso noi possiamo prescriverli però comunque esistono benissimo dei farmaci che funzionino sia per per noi che per loro un problema che noi siamo vincolati dalla dall'emissione delle ricette solo per i farmaci veterinari però può succedere che ad esempio io ti prescrivo rifacendo l'esempio della gumentin se il cane di grossa taglia non c'è la non c'è la la posologia giusta per per me devo per forza prescriverti quello perché quella molecola lì è solo per umana sono mille milligrammi no quella dei cani arriva fino a 500 quindi posso dire se il tuo cane è enorme però in quel caso te lo posso prescrivere però in generale non funziona così oppure ci si mette d'accordo che io ti dico questo è il farmaco che devi prendere tu vai dal tuo medico di base ti fai fare la ricetta e poi lo usi per per il tuo animale questo è quello che si può fare però purtroppo sì 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 no esistono assolutamente sì grazie sì 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 Grazie a tutti